La MEI è stretta fra due esigenze. Da una parte quella di accontentare le richieste più ultrasiste che vengono dall'ala più radicale, diciamo, che pretende una Brexit più dura del suo partito, dell'elettorato, e dall'altra le richieste, le preoccupazioni del mondo del business che di fronte a una rottura o a un cambiamento drastico dal 2019 in poi, cioè la data in cui il Regno Unito dovrebbe uscire dall'Unione Europea, e si aspetta invece garanzie e sicurezza su quali saranno le regole che determineranno le operazioni economiche e commerciali. Dato che non c'è tempo da qui a fine 2019 per negoziare una nuova relazione commerciale, anche non solo commerciale e economica, di sicurezza, una transizione che lasci più o meno le cose come stanno, è il massimo che la MEI può offrire realisticamente al mondo del business senza tradire la promessa che comunque il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Ha voluto dare anche assicurazioni ai tanti italiani residenti in Gran Bretagna, ha detto dovete restare con noi, del resto rappresentano anche una fetta importante delle PIL della Gran Bretagna. Questo è il destino degli italiani e degli altri europei residenti e lavoranti anche nel Regno Unito, è una delle questioni fondamentali del primo negoziato, l'unico negoziato che finisce a partire, quello di cosiddetto divorzio. Ci sono tre questioni, questa, quella della confine fra Nord Irlanda e Irlanda, e poi quella più importante, cioè il cosiddetto exit bill, cioè l'Unione Europea sta chiedendo, chiede che il Regno Unito onori impegni passati di contributo al bilancio dell'Unione Europea. Ovviamente la MEI facendo un'apertura, una concessione, o meglio un'apertura piuttosto generosa sul fronte dei residenti, prova a guadagnarsi un po' di benvolere, prova a segnare un punto e soprattutto prova a portare il negoziato sul divorzio verso uno stato di avanzamento sufficiente a che si possa cominciare a parlare dell'altro negoziato, cioè il negoziato sulla futura relazione. I britannici vogliono tantissimo che quest'altro negoziato sulla futura relazione cominci il prima possibile, mentre gli europei stanno un po' puntando i piedi perché dicono no, prima ci mettiamo d'accordo su come uscite, compresa la questione dei soldi ovviamente. E poi parliamo di come ci relazioneremo in futuro sul piano commerciale, economico e di sicurezza. Colpisce un altro passaggio del discorso, quello in cui Teresa May dice in Europa in realtà non ci siamo mai sentiti davvero a casa. Sentiamo. La sensazione di questa necessità di controllo diretto dei politici è una delle ragioni per le quali il Regno Unito non si è mai sentito a casa all'interno dell'Unione Europea, forse a causa della nostra storia, forse a causa della nostra posizione geografica. L'Unione Europea non è mai stata per noi parte integrante della nostra narrazione nazionale. Invece è così altrove, in altre nazioni, in Europa. È una questione di scelta. Noi crediamo ardentemente nella sovranità. A chi si rivolge è anche un modo per ricucire le divisioni interne a cui facciamo riferimento? Può essere, può anche essere, diciamo, forse il passaggio più onesto, più candido di tutto il discorso della May. È effettivamente vero che l'Unione Europea e l'integrazione europea non è mai entrata nel percorso di costruzione di identità nazionale britannica come lo ha fatto invece in altri paesi dell'Europa continentale, in particolar modo quelli dell'Europa continentale e occidentale.